Nel calcio non di rado si parla di punti guadagnati o di punti persi, quello dello Scordia conquistato in casa contro la Palmese è sicuramente un punto guadagnato per il blasone e la forza dell'avversario ma anche per come è andata la partita, una partita semplicissima da raccontare, avvio shock con lo Scordia che dopo 10 secondi colpisce il palo con Usman e poi al quarto minuto alla prima vera occasione la Palmese passa in vantaggio con un colpo di testa di Saturno. Poi non succede più niente per tutto il primo tempo nella ripresa Scordia che entra in campo con un piglio decisamente diverso, Scordia che a un quarto d'ora dalla fine riesce a trovare il pareggio, Bellino viene atterrato in area di rigore, penalty che D'Agosta realizza senza problemi. Per assurdo però è lo Scordia che può recriminare perché a pochi minuti dal fischio finale un colpo di testa di Bellino sfiora la traversa, finisce 1-1 lo Scordia come abbiamo detto, conquista un punto e sale a 9 punti. In graduatoria sentiamo le impressioni a caldo di mister Natale Serafino. Un po' che ci gira così, insomma alla prima si prende il gollo, forse è l'unica occasione vera che hanno creato l'oro, poi solamente ripartenze. La squadra al secondo tempo soprattutto ha dimostrato di voler recuperare la partita, hanno veramente dato tutto, si sono impegnati veramente alla grande e alla fine hanno raggiunto penso un pareggio strameritato. Ma guarda, il calcio non è una scienza perfetta, è fatto soprattutto di episodi, noi sappiamo che dobbiamo migliorare su questo perché alla prima stiamo pagando a caro prezzo questi episodi. Siamo qui per migliorare, i ragazzi sono disponibili, io sto mettendo tutta la mia passione, tutta la mia voglia di fare bene per farli migliorare, per migliorare tutti insieme e spero che questo periodo così magari un po' negativo per quanto riguarda gli episodi possa essere superato. Siamo usciti in maniera ottima dagli spogliatoi al secondo tempo, diciamo che è stato un approccio diverso dal primo, una squadra più vogliosa e con più carattere.